oh ma salve appassionati di tecnologia eccoci qui con un nuovo video quest'oggi vi mostro questa videocamera la v1 tenete bene a mente questo prezzo durante tutta la recensione perché è un prodotto molto interessante parliamo al momento in cui lo stiamo presentando parliamo di 39 euro che potete trovare dal sito di amazon e vi lasciamo ovviamente il link in descrizione all'interno troviamo il manuale con un po di lingue dei qr code per andare a scaricare l'app l'app è un app osaio che trovate su app store ma anche su play store di google c'è anche la lingua italiana quindi include inquadrando questo qr code scarichiamo la sua applicazione come sempre vi consiglio quando acquistate dei prodotti di andare a vedere i voti che hanno sullo store in questo caso abbiamo un voto di 4.2 che è abbastanza alto e quindi già questo vi fa capire la qualità del prodotto mettiamo da parte per il momento il manuale vi faccio vedere l'hub a cui poi attraverso questo pulsante si andrà a connettere la videocamera quindi andiamola a spacchettare così in maniera barbara ecco qui vi basterà premere questo pulsante e la w1 si andrà a collegare di queste qui ne potete collegare fino a 4 e questa è l'altra particolarità di questo prodotto quindi tenete sempre a mente il prezzo che vi ho detto all'inizio perché questo qui praticamente può diventare un vero kit di monitoraggio per la sorveglianza 4 di queste qui su un unico dispositivo ha la sua batteria interna parliamo di una risoluzione di 1080p con visione notturna e a colori alla possibilità di avere un allarme acustico e addirittura il sensore che vi farà accendere la luce al movimento grazie al suo rilevamento per diciamo poi ovviamente c'è sempre da vedere un pochettino l'app ma come tutte quante adesso e beh ormai si sa c'è la sua notifica che vi arriva direttamente sul vostro smartphone quando viene rilevato un movimento questa g n c c ha anche la possibilità di andare a inserire una sd card qui una micro sd card fino a 128 giga quindi mi permette di fare una registrazione continua ovviamente questo andrà a influire sulla durata della sua batteria però siete coperti quindi anziché avere un dvr nrvn e così via avete la possibilità di creare veramente il vostro kit di sorveglianza a basso costo scarichiamo l'app la configuriamo così vediamo come funziona ovviamente sempre nelle 39 euro e con compreso anche tutta una serie di cavi e cavettini nonché di agganci per andare a fissarla direttamente a parete il cavo ethernet che vi servirà per andare a collegare a collegare questo dispositivo direttamente al modem e l'alimentatore oltre che il cavo per andare a ricaricare la videocamera di sorveglianza la v1 la qualità del prodotto mi sembra abbastanza buono anzi direi che veramente ottimo nonché comunque è garantita per stare sotto le intemperie quindi può stare anche all'esterno e vedo che un campo visivo di 120 gradi quindi sono molto curioso di vedere come si vede ok abbiamo collegato il nostro dispositivo ci basterà andare sull'app e selezionare tra le tante tra i tanti prodotti disponibili il nostro dispositivo quindi in questo caso il v1 ci dirà che il v1 deve essere aggiunto al suo hub quindi andiamo ad accendere tenendo premuto questo pulsante qui sotto un feedback ci dice che la camera è stata accesa seguiamo la guida attraverso l'app la luce rossa il lampeggiante si andiamo a inquadrare il codice qr posizionato qui sotto e poi ci dice di aggiungere la telecamera questo caso dobbiamo tenere premuto il pulsante e l'abbiamo già fatto sta lampeggiando a questo punto guardate è diventato verde noi andiamo a premere diventa verde il pulsante quindi vediamo un pochettino andiamo a fare l'abbinamento tenendo premuto il pulsante adesso lui andrà a ricercare la nostra videocamera e un feedback audio ci dice appunto che è stata connessa quindi stato molto molto semplice a questo punto la nostra videocamera GNCC la v1 è stata aggiunta e possiamo andarla a gestire attraverso l'app qui abbiamo un messaggio che ci dice che volendo possiamo andare ad abbonarci a un servizio cloud ma vediamo come si vede come la risoluzione attraverso lo smartphone ecco qui direi che è molto buona facciamo un piccolo test audio proviamo a parlare no vediamo un po prova si prova ecco qui l'audio bidirezionale andiamo a disattivare poi qui abbiamo anche la possibilità di attivare o disattivare la sua luminosità la sua luce benissimo come vedete la sua potenzialità o meglio la potenzialità di questa videocamera sta nella configurazione che è molto semplice può essere andata a posizionare ovunque ovviamente non vi do dati relativi a quella che dura alla durata della batteria perché questo dipende sempre ed esclusivamente da come la utilizzate volendo potete andare a collegare anche se ne avete uno un pannellino solare qui così se la decidete di tenerla all'esterno potete prolungare la durata della batteria andiamo nelle impostazioni attiviamo anche la sirena così vediamo se riusciamo ad attivarla ed ecco una notifica ci dice che pensa di aver individuato qualcuno benissimo e allora per questa videocamera è tutto come sempre vi lasciamo il link qui sotto in descrizione per andare a vedere farci un clic per vedere se fa caso vostro e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao appassionati